Dio 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 Dio? Sei quello che so io dipende cosa? tante cose dipende dal momento quanto incazzato sono quanto incazzato sono? ok ok ho visto l'invito ho accettato l'invito ok è entrato sono dentro ho cliccato uno vediamo cosa ho cliccato estrazione o stagio io vado dentro e sfondo si può fare a parte che sta mappa qua non la conosco tutta neanche io cazzo non corre una tega sto qua sto dietro qua è una barriera qua allora aspetta un seconda apro lo scudo no ce n'è uno dietro allo scudo adesso arrivano tutti che fa parte il pompa eccolo aspetta bella se tu ti piace il cazzo non puoi farmi una tega bastardo da dietro si da dietro faccio davanti quadrino uno dove cazzo sei? ah de la ok ok c'è gente lì? no cosa mi dici che sono nella stanza qua a sinistra cazzo sono anche senza munizio ricarica perché io ho la pistola non posso avere un fucile vabbè effettivamente che non lo vuoi dire ma se io tipo sfondo qua dove andiamo? ah fuori no non era proprio il mio obiettivo andar fuori abbiamo sbagliato strada completamente tecnicamente dovrebbe essere sopra ma mai sopra evidentemente eh eh sento casino sento anch'io potrei fare la furbata di questo tipo ah non puoi accovacciarti con lo scudo ah però posso fare così clic ehi la cazzo ti sei in tu? paghi un altro aspetta 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 mi contattuta la vita ariete dal battaglio dal sfondo a tutto e-e-e-e peda ita madonna Dove sei? Cazzo! Oh sono in 5 qua dentro Oh croo Cazzo Spara là Spara là Ehi là Quanti sei? Ehi Quanti sei? Cazzo questo mico No calma 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 E la madonna La madonna Ok Ho 26 di vita Ma non cazzo 31 Allora Adesso siamo un po' nella merda sai Perché non abbiamo Un cazzo Di vita E dobbiamo scappare Fuori Eh adesso ci diva tutti Eh si Ci diva tutti E mingola Poi amici Ehi là Se ne andiamo fuori da qua Riesci a sfondarmi Un secondo Aspetta Aspetta Effettivamente siamo fuori Noi siamo fuori Effettivamente Si siamo fuori Si per quello Di qua però Dovemmo andare No Aspetta Non riesco tipo a calarmi giù Io Ce l'ho ancora Si In teoria fuori Non ce ne sono Oh no 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 Oh no 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 Eh ho 3 di vita Eh non posso Riesci tipo a venire di qua Alza me 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 Ho 20 di vita Ne hai più di me Ho parlato troppo presto Non c'è nessuno fuori Vai Che imbottio quell'è Cioè è bel grassa il cazzo Accompare tutti i tipi Questo ne ho fatti Ne ho fatti draghi Ne ho fatti Disinnesco bomba Oh Portiamola qua Allora questa sia bomba Mmm Sai come funziona il future Non so come funziona un cazzo La missione è trovare e disinnescare una bomba Eh Che modo da catarla Disinnescatore Ah no ce l'ho io Ok Allora intanto Che modo da catarla La bomba Sì che c'è anche nemici dentro immagino Ma possa Allora Aspetta che tiro un drone Prima la bomba dobbiamo trovarla E se non troviamo la bomba Ma il bello È che quel Quello mestiere del disinnesco Quando tu piazzi il disinnescatore Ti arriva tre quarti di gente Ma tu tassunco Il drone alleato ha trovato una bomba Mi sei tutti qua Mamma Mamma col fuse Che casino che fa adesso Mamma Ok Immagino che l'altra bomba siede qua Ah Ah son due Esatto Bene Ok perfetto Sappiamo dov'è la bomba Sappiamo dov'è la bomba Loro si sono messi come i topi Ok In 1 portanto Sei pieno di gente Quanti sei più o meno Vado quanti Quanti sei più o meno Ah Più o meno quanti sono Mi penso una trentina tipo Eh Sì E se un doni altri Ma In 30 contro 2 Va bene Io potrei fare con il fuse Visto che ne ho quattro Sono le cariche Quelle a grappolo Praticamente mi appiazzo Sono a finestra O che cosa Praticamente che mando dentro Tanti di chi Di chi Di chi Darvi Che entra anche Cap al muso Se me la fa piazzare Sulla finestra Cazzo Faccio il disastro Cazzo Arrivano tutti Te lo dico Eh Se io riesco ad entrare E a piazzare la carica Grappole su quella barriccata Sarebbe oro Io entro Oggio che arriva eh Tento vociare Ti ne è Drio qua Gli ne è Però guarda cosa faccio Stanno arrivando Oggio Lì là Li vedo sono da dietro Ho visto muoversi Vieto dove Faccio da dio Senti che roba Ne ho ancora due Allora le cose sono due Piazzo il disinnescatore E arrivano tutti Possiamo star qua Tanto munizione Ne abbiamo Uno per ogni ingresso Potremmo farcela In teoria Fermo Piazzo un'altra carica Se serve La faccio partire Ok Cazzo sono tutti qua Qua No 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 Mi ha visto Cazzo Ho visto che t'ha visto Ho idea Che dietro Quella barricata Ci sia il mondo Cazzo Dai Dai Avanti Avanti Io ci provo Eh Calma L'ho visto Mi ha visto anche lui Ammazzato Ok Ero lì Eh Ah devo andare Occhio Non c'era più nessuno E allora Passiamo Alla fase Successiva Via da cazzo Allora C'è la porta Di qua C'è la porta L'ho aperto un'altra Cazzo C'è la porta qua C'è Sarà Il devasto Di gente Dietro sto muro Ehi la Quanti sei Yo Sì Flashbang Flashbang Mastardi Ti eri che messi in mezzo Stavo sparando Allora Qua è un po' È un po' Aperto Però lo devo piazzare Per forza Occhio perché arrivano anche dalle finestre 45 secondi Ehi la Marilla Ah devo Ah se Ehi Adio Stavo pensando Sentendo Pensando Sentendo Brr Brr Eh T'acchiamo subito È lì Non c'è più Fermo Ah te l'hai fatto fuori Questa è cazzo Rush È anche Sinonimo di Rush E di Casino Satevi No C'era la porta Di qua Cazzo Ah ma qua si va su Nella stanza di qua a sinistra C'è gente? Sì È baricato Ehi la L'ho visto Troppo lento Ok Mi apro il buco di qua Sento un po' di gente di là Cazzo è pieno Signora ma dove cazzo si va a infognare Me lo spiega porco Perché devi fare la succubre così Sembra potevo entrare io a rompere il culo a tutti Non è che sia proprio Io sfondo di qua C'è gente? C'è gente per caso? Sento Sì sento anch'io Siamo avanti a sinistra Io sfondo quel muro lì Aspetta pezza Dove ne è morti? Dove ne è morti? Sì Di qua ci si va abbastanza avanti Eh E roba se do Ciappo l'ostaggio Andiamo via Allora prima puliamo un po' di qua Sennò arrivano tutti Di qua cosa c'è? Di qua si esce Adesso arriva una pacca vicente cazzo Ma tutto in te i cessi Ma vado in te i cessi Dio nati Ti ho visto Devo pensare Portiamolo al punto di estrazione Non fare l'ostaggio Chi cazzo che cadi Non sta a sigare Vuoi morire o vuoi vivere? Arrivano Eh quanti Spiega sul mare Oh mia bella madonnina Mia ciappo è su Abbiamo l'ostaggio Procedere con l'estrazione Ne ricordo che io ho una pistola Finta che è un po' sì Guardalo Che fette? Che fette? Finchia mare che sta arma qua fa il disastro Che fette? Ma il personaggio in sé fa il macello Ma perché niente si esala davanti Mino Mi mega butta là Ah immagino dobbiamo calarci Per la scala di qua Immagino che non è la scelta più saggia buttarsi Mila Non colpo cazzo Che dove ti fanno fare? Come cazzo è arrivato lì? E? Ah ma c'ho visto C'ho visto Ops Oila Dove? Allora Non ci siamo capiti Bello è che siamo su due stanze differenti E stiamo ammazzando le stesse per so Aia Aia Oh Robby Ario lì Come? Non ho capito Ehi là Dove scusa? Siamo a metà e sono già morto Ario là Ario in fondo In fondo Tutti in fondo Come è rotto in culo? Ah? E qua dietro Sono qua dietro Quanti sei? Era un due Aia cazzo è qua fuori Era lì da qualche parte Lì fuori Occhio Lì fuori dalla porta Mi ha sparato da lì Dietro al muro Vedi perché avevo quest'arma C'ha un rinculo pazzesco Perché c'ha un rinculo pazzesco Ma fa un danno della madonna Sinistro Dove siete? Ma c'è un altro piano sotto No basta Non posso tipo calarmi No? O lì che sto qua Il piano più basso Ma tipo si può andare giù Ma come è di sì Io vado a diventare Come è? Nooo Eh mecca mancà anche no no te prego no 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 perché ho caricato cazzo godete se mi arriva un altro odespo e ho caricato perché ho caricato e sono handicappato di merda madonna